Eccoci qua, allora andiamo a vedere l'applicazione direttamente dal vivo, quindi vedremo prima la parte desktop dell'app e poi la parte mobile, che sostanzialmente sono complementari, sono quasi la stessa cosa. Quello che andremo a fare adesso quindi è capire come queste spese vanno gestite, come tramite l'utilizzo di applicazioni più o meno comode, io vi lascerò il link di quella che uso io qua in descrizione, si può capire bene cosa stiamo facendo, ma buttiamoci subito all'opera. Allora, eccole qua, ragazzi qua ovviamente c'è il 90% delle mie finanze, quindi oggi fatevi pure i fatti miei, ma insomma tanto non c'è niente di segreto, niente di strano, vi faccio proprio vedere come funziona nel dettaglio l'applicazione facendo vedere i passaggi principali. Innanzitutto qua abbiamo la schermata, diciamo con tutte le informazioni più rapide, la prima cosa quando mi registro in queste applicazioni è quella di aggiungere un account, quindi aggiungere un portafoglio, aggiungere i posti dove io ho i soldi. La cosa comodissima di questa applicazione è che vi permette di fare direttamente una sincronizzazione bancaria, quindi qua ci sono diverse banche, ce ne sono veramente migliaia e migliaia e migliaia, e voi potrete in questo modo registrarvi direttamente le spese senza doverle inserire manualmente, che è la parte più pallosa e che poi fa sì che tutte queste applicazioni non vengono usate. Invece ad esempio io N26 e Unicredit ce le ho registrate lì, quindi in automatico l'applicazione mi prende le spese che ho fatto, non devo inserirli io manualmente ed è una comodità assurda. Alcune cose poi invece le inserirò io come i soldi cash che ho nel portafoglio, il conto trading, i risparmi, le criptovalute, come vedete Binance, Ethereum, quindi più altre cose che adesso io in questo caso qua non ho inserito, che voglio tenere fuori per altri motivi, ma insomma posso inserire tutte le cose che voglio. Una volta inseriti i nostri portafogli, i nostri conti, dobbiamo andare a registrare le spese. Come vi ho detto, allora qua partiamo ad esempio da luglio, allora qua sono gli ultimi 31 giorni, no, a noi ci interessa proprio non è specifico luglio. Come vedete qua ci sono alcune cose che io non posso modificare, sono queste cose qua grigio chiaro, perché l'applicazione ha rilevato in automatico queste spese dalla banca, da uno dei conti, in questo caso da N26, ma mi dice aspetto qualche giorno per confermare questa transazione, per vedere che non ci sia nulla di strano, che poi ho sbagliato io a leggere, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre tutte le altre le posso andare a modificare. In automatico l'applicazione vi dividerà le spese che fate, se sono holiday, trips, hotels, phone, ristoranti, regali, attività o fitness, insomma fa già una bella scrematura, ovviamente non è preciso al 100%, ad esempio questo trasferimento qua, che vedete di 1400€ è un bonifico che io ho fatto a me stesso su un altro conto. Lui l'aveva letta come tipo una spesa che avevo fatto in bar, ecco, quella cosa era assurda, quindi ecco perché vi consiglio almeno una volta a settimana di aggiornare l'applicazione, guardare che ogni spesa sia effettivamente veritiera. Ma devo dire che ci prende abbastanza, quindi se fate la spesa lui capisce che state spendendo per cibo, se andate al bar capisce che state spendendo in bar, se fate attività fisica lo capisce, insomma dipende soprattutto da come sono registrati gli esercenti che vi fanno pagare. Ecco anche perché io preferisco pagare tutto col telefono, perché in automatico mi registro tutto qua e non devo stare a segnare io a mano i contanti che ho pagato, ecco perché anche fosse 2€ li pago col telefono o comunque con la carta. Una volta diviso, diciamo, per categorie i miei pagamenti, è importante dividerli in etichette, cioè dargli dei label, dei livelli che decido io. Come vi ho detto nel video, i livelli principali da mettere sono almeno 3, sono spese, investimenti, che possono essere sia finanziari che sono i stessi, e svago. Io qua ho già fatto il lavoro sporco al postostro, quindi se andiamo a vedere il mese di luglio, qua ho già diviso in svago, spese, personal brand, e qua vi faccio una piccola parentesina, tipo questi qua sono 6€ che ho speso per entrare in piscina. Come mai l'ho messo su personal brand? Perché io sono andato in piscina per nuotare, non è che sono andato lì per divertirmi o per rilassarmi, sono andato per fare attività fisica, quindi è un investimento che ho fatto su me stesso. Poi personal brand per me vuol dire appunto sul mio brand personale, perché è il fisico, perché mi piace, voglio tenermi in forma e tutto quanto, se andavo in piscina per svaccarmi e non fare niente, magari li avrei messi in svago. Questo è per farvi capire che non c'è un'oggettività dietro alle spese, ma dipende tutto dal mindset e dal motivo per il quale le facciamo. Questo ci aiuta anche tantissimo a rimanere disciplinati e rigorosi durante le nostre spese. Una volta che abbiamo registrato tutto, quindi adesso qua non sarò a perdere troppo tempo, ognuno poi si registra le proprie spese come vuole, entrate, uscite, eccetera, eccetera, si può andare a capire come stanno andando le nostre finanze. Allora, ora luglio non ha senso che ve lo faccio vedere perché non è chiuso, quindi siamo verso la fine ma ancora non è chiuso. Essendo dipendente lo stipendio mi arriva alla fine del mese e in più anche tante altre entrate che ho non le vedete perché mi arrivano alla fine del mese. Ad esempio qua vedete che ho 69 euro di entrate, ma in realtà se io vado a vedere da dove arrivano queste entrate, vado su records e vado a metterli solo le entrate, vedete che sono dei refundi, in pratica sono dei soldi che io ho anticipato e mi hanno ridato. Ad esempio 43 euro perché ho offerto la cena a un mio amico, cioè abbiamo pagato la cena insieme, poi lui mi ha dato tutta una parte e stessa cosa poi il 13 luglio. tra l'altro, vedete è stato magnifico ieri sera, perché quando voi fate un bonifico, un trasferimento, una qualsiasi cosa, la causale, l'applicazione già avrà la legge in automatico, quindi vi inserisce già la causale lì dentro. Veramente molto comodo perché così basta che voi vi scrivete al volo in cosa avete speso quei soldi o ve lo scrive il vostro amico che vi li dà e sapete già, cioè l'applicazione già lo registra ed è veramente molto molto comodo. Comunque, tolto luglio che non si capisce niente, andiamo a giugno che invece un mese fatto e finito. La prima cosa che io noto, il dato principale da tenere sott'occhio è questo, il cash flow, e quando è negativo non va bene. Non va bene ma dobbiamo capire perché non va bene, cioè perché io ho speso 5.800 euro a fronte di un guadagno di 5.100, cioè perché ho speso di più di quello che ho guadagnato? Andiamo a vedere perché. Se io vado qua sulla destra vedo che sostanzialmente ho speso tipo 380 euro per mangiare e bere, 330 euro per spese finanziarie, 240 euro per la macchina, qualcos'altro in pc, internet eccetera eccetera, ma la grande spesa sono 2.400 euro di shopping e 2.200 euro di, diciamo, life e intrattenimento, divertimento. Ma è realmente così? Andiamo a capirlo. Se io vado su shopping vedo che sono tutti soldi spesi, diciamo, in roba elettronica e dico allora ma sta roba elettronica cos'era? E vado a vedere e dico ah ok, 2.000 euro praticamente sono solo di MacBook e iPhone. E se io vado a vedere le mie spese di MacBook e iPhone, quindi io vado nel mese di giugno, ma poi lo vedremo meglio dall'applicazione, però intanto è importante anche vederlo qua. Allora, 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 togliamo gli income, mettiamo le spese e mettiamo le spese che io ho fatto per personal brand. Vediamo che qua, eccolo qui, MacBook e iPhone, quindi 2.000 euro io sì che li ho spesi per un acquisto di roba elettronica, ma sono stati un investimento sul personal brand, non sono stati una spesa per svago. Stessa cosa, se io vado a vedere invece quello che ho fatto per Trip e Hotels, quindi Life and Entertainment che qua mi fa vedere che io ho speso 2.200, cioè 2.277 euro, in realtà scopro che 1.900 sono solo per il viaggio. Anche qui il viaggio io poi l'ho contatto personalmente come svago, ma gli do una motivazione a tutti quei soldi spesi, capito? Non è che li ho spesi così buttati all'aria. Ho capito perché. So, ad esempio, che magari il prossimo mese eviterò di far vacanza perché già qui ho esagerato. Comunque so che ho sforato il cash flow perché ho investito sul mio personal brand, perché ho dovuto prendere un Mac e un iPhone, che roba che mi serve per lavorare. Quindi, cash flow negativo, ma il dato è negativo? Ni, perché in realtà quei soldi li ho investiti, quindi sono soldi che in teoria dovrebbero tornarmi grazie all'investimento che ho fatto. visto che grazie a questo Mac e a questo iPhone vi sto registrando tutti questi contenuti che con l'altro PC non avrei potuto fare. E vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, fatemi vedere, dovrei, dovrei essere... Eccolo qua. Passiamo alla parte smartphone. Ora state vedendo esattamente quello che vedo io sul telefono. Guardate quella tecnologia pazzesca. E vi faccio vedere, ad esempio, se noi andiamo sulle statistiche, andiamo a vedere sul cash flow, o anche solo sulle spending, noi andiamo a settare qua sotto il mese di giugno, labels, vedete che io ho speso in tutto 5.700 euro, di cui solamente 670 per spese strettamente necessarie. Mentre 1.900 in svago, quindi io effettivamente ho speso 2.000 euro in svago, e qua, vi ripeto, per me le vacanze lo considerate svago, ma so che sono stato anche un buon investimento su me stesso, ma la maggior parte lo spese in personal brand. Quindi questo mese, posso dire, sono stato abbastanza bravo perché la maggior parte delle spese le ho avuto su di me. Per me il mese è negativo se io dovessi mai avere lo svago che supera tutte le altre spese. Se vado indietro, ad esempio, maggio, di nuovo, cosa è successo? Lo svago è una parte, diciamo, interessante, circa un terzo della fetta, forse anche qualcosa meno. Altre cose, ce l'ho in risparmi, un'altra bella parte in personal brand, e una forte dose di spese. A maggio magari ho dovuto spendere qualcosa per l'assicurazione, o per la macchina, o va a sapere perché. Insomma, poi uno può entrare nelle registrazioni e capire perché. Ad esempio, vedete, che se io vado a guardarmi le spese, dico, maggio, ma come ho mai speso così tanto? Ah, eccolo qua, 230 euro di gomme. In realtà, Gift Joy, perché sono gomme, insomma, che non ho preso per me, ho preso per qualcun altro, ma insomma, capisco perché ho speso così tanto. Ne posso andare a ritroso a vedere tutti gli altri mesi, dove ho speso i soldi. Come vedete, lo svago per me deve essere sempre una fetta un po' più piccola delle altre. tante spese, tante cose, insomma, un sacco di spese. Quest'app mi fa capire che io spendo un sacco di soldi per vivere. Porca miseria. Comunque, a parte gli scherzi, allora, qua l'applicazione adesso, per farlo vedere molto velocemente, anche qui abbiamo i balance, quindi abbiamo il patrimonio per capire come sale e come scende. Anche qua abbiamo i cash flow e tutto, grafici, non grafici. Li faccio vedere dal PC, almeno sono un po' più grandi e si riesce a capire qualcosina meglio. Sostanzialmente, quello poi che possiamo fare è andare a capire un po' meglio da vicino questi grafici come stanno andando. Ad esempio, se io vado a guardare maggio, dico, cavolo, maggio ha un cash flow allucinante, perché io a maggio ho guadagnato 5.300 euro e ne ho spesi 1.300. Dico, cavolo, allora a maggio, vedi che... Maggio sono stato forte. Se vado a vedere poi come ho fatto a guadagnare 5.000 euro a maggio e soprattutto anche come ho fatto a guadagnare poi 5.000 euro a giugno, come è stato possibile tutto questi cosi, questi guadagni, io vado sulle analytics e posso capire un po' meglio appunto come sono fatte le mie spese e il mio stile di vita. Se ad esempio metto l'anno, metto 2021, qua metto questo qui è il balance, cioè il patrimonio. Qui potete notare, io ho avuto un patrimonio abbastanza stabile, eravamo sempre sui 26.000 euro, poi 28.000 euro, poi riscendevo, quindi sostanzialmente spendevo e guadagnavo sempre la stessa cifra. Ad un certo punto, ad aprile e maggio, boom, è arrivato il colpo qua, perché ragazzi sono arrivati questi colpi, perché se voi avete seguito il mio profilo, in questo periodo ho spinto fortissimo sul lato cripto e vabbè, poi i risultati insomma si vedono, perché ho avuto dei guadagni interessanti, soprattutto in questi mesi. Qua vedete un crollo totale del mio portfoglio, proprio perché erano soldi che io ho investito nel cripto, quindi quando li investo io li vado a considerare delle spese inizialmente, finché non vedo il guadagno per me, quella è una spesa. E poi insomma adesso col balance, come potete vedere, sono salito di parecchio, quindi insomma è una cosa sicuramente interessante, ma torniamo alla visione mensile, perché quello che ci interessa a noi è un po' anche, andiamo a vedere il cash flow, ragazzi che è interessantissimo, mi raccomando tenetelo sempre sott'occhio, lo comparo ad esempio a quello del mese precedente e vedo che sono stato insomma non tanto bravino, perché vabbè poi qua come abbiamo visto sali e scendi, sali e scendi non sono mai bellissimi, soprattutto nel cash flow sarebbe bello vedere che va sempre un po' di più a salire e non a fare delle montagne russe. Ma quello che volevo far vedere era anche, oppla, ok, cumulative cash flow, cioè vuol dire che non si va sempre a, cioè non viaggia su una media, ma ci fa proprio in valore assoluto il nostro cash flow, e ragazzi come avete visto, io sono stato, qua è il mese di giugno, confrontato col mese di maggio, sono stato negativo a giugno, meno 696 euro, ma sono stato positivo a maggio, quella tratteggiata il mese precedente, quindi maggio sono stato molto bravo, molto, sono stato bravino, mentre a giugno non tanto, come abbiamo visto per le spese che ho dovuto sostenere. Ora, non voglio stare qua tutto il tempo, tutto il giorno, a far vedere statistiche, dati e soprattutto su quelle che sono cose, cioè nel senso mio, voi sì che ve ne frega, potete farvi i fatti miei, vi fate un po' un attimo i conti in tasca, ma va bene, insomma, boh, finita lì, quello che mi interessa è farvi capire il concetto di come sia importante valutare tutte le spese, perché io inizio a capire dove sto spendendo di più, dove sto spendendo di meno, quindi andiamo sempre nel mese di giugno, magari me le metto per l'ammontare, quanto è alto, e vedo che sostanzialmente nel mese di giugno, dove sono arrivate la maggior parte dei miei guadagni, delle mie spese, ma innanzitutto il guadagno è arrivato in buona parte dallo stipendio, in un'altra buona parte dei guadagni che ho avuto da Loa, invece le spese dove sono arrivate, ma guarda, cioè, questa è una cosa ad esempio bellissima, io vedo che la maggior parte delle spese e dei guadagni li ho avuti dal personal brand, questo vuol dire che quando io investo nel personal brand, poi effettivamente ho dei ritorni, insomma, ci facciamo così tutti i nostri calcoli e tutte le nostre cose, qua ad esempio abbiamo visto che nel mese di maggio, in realtà invece il guadagno molto grosso ce l'ho avuto da Binance, eccetera eccetera eccetera, qua dentro non c'è proprio tutto, perché ripeto, il conto trading, non essendo che è automaticamente registrato, non vado con costanza a tenerlo aggiornato, ma faccio un recap solamente ogni tot di mesi, e quindi, magari il conto trading, ecco, non ho tutte le statistiche, sto mese ho perso, guadagnato, ho fatto, ho detto, quindi qui è un po' diverso, anche perché io ho tutto quello che faccio nel conto trading, insolitamente lo lascio lì dentro, ritiro pochissimo, e quindi ecco perché non ci sono le statistiche all'interno. Ragazzi, ci sono altre 200.000 cose dell'applicazione, non ha senso che ve le faccio vedere tutte, le cose principali le avete capite, sono queste qua, registrare i nostri conti, barra portafogli, registrare le spese, dividerle bene, e poi andare, o tramite il computer, o tramite l'app, a capire bene come le stiamo spendendo, tenere tutto sott'occhio, e questo ci permetterà di vivere in maniera un po' più disciplinata, e gestire meglio le nostre spese. Ora io vi lascio al video, e noi ci vediamo prossimamente. e noi ci vediamo prossimamente.